Siamo alle pagine sportive per questo 14 agosto, partiamo dal Perugia, bianco e le ali in stand-by, parliamo di mercato, griffo che pensa alle uscite, trattativa al palo col Cosenza per il centrocampista, pare svanita anche la pista che avrebbe portato il portiere all'ascolo. Oggi Oddo ha convocato tutti per la ripresa degli allenamenti a Pian di Massiano. La novità è l'inversione di campo, in Coppa Italia domenica non si gioca a Rigamonti di Brescia ma al Curi, proprio per l'indisponibilità dello stadio bresciano, domenica alle 18. Le autorità non hanno autorizzato la disputa della gara a Mantua e dunque si gioca a Perugia. Siamo a Gubbio che ieri sera ha salutato la presentazione della squadra in Piazza Bosone, serata che vi proporremo venerdì alle 21.30. Il Gubbio abbraccia la città, l'appello del patron, tifosi stateci sempre più vicino. Difficoltà molteplici, racconta notari sul mercato, ma con segnere maltecnico una rosa completa. Da ragazzi del settore giovanile, fine rosso-blu di Mister Guidi sul palco, tutti i protagonisti. La serie di Umbre, il via davanti ai propri tifosi, debuttano tutte e quattro in casa, Bastia con la Ianese, il Cannara con lo Scandicci, il Foligno con il Tavarnella e il Trestina con il Grosseto. Il prossimo primo settembre alle 15, primo derby il 22 al Blasone tra Falchetti e Bianconeri. Il 29 Arminley va da Cocciari. E poi la Sisi Subasio vuole stupire tutti in eccellenza. 3 ore attacco super, 10 arrivi alla corte del nuovo tecnico Daghio nell'organigramma. Entrati il DS Arcipreti e Damaschi, il presidente Marcantonio, abbiamo grandi potenzialità. E poi Tassi sfreccia verso il futuro. Il pilota disabile correrà l'Africa Eco Race con un'auto elettrica. E dice attento l'impresa. Il perugino è stato protagonista della Dakar di due anni fa. Siamo al tiravolo, città di Spoleto, Ranuccia e Re, il portacolori del Tav Foligno ha fatto centro al secondo Memorial Cardarelli. E poi il basket, si conosce il cammino della Cisilver, fratta via in casa, toglie e gualdo, partono fuori. Infine il tennis, passaro, continua a far parlare di sé. Il giovane tenista perugino entra nel mondo dei grandi con 6 punti ATP, è il numero 1133. Lasciamo il Corriere, andiamo alla Nazione, ovviamente sempre con le pagine sportive, con il Perugia. La Coppa Italia si gioca al Curi, ma il Manto Erboso è un'incognita. Santo Parle farà un primo intervento fondamentale, sarà la convenzione. Tagli anni in medita da questa mattina, venerdì, anche biglietteria. Ternana, la sfida comincia con il Rieti per approdare al successo di turno di Coppa Italia. Rosso Verdi basterà un pareggio, mentre Armillei dice ritroviamo il fascino di un campionato difficile. Partenza casalinga per le quattro Umbra di Serie D e poi Coppa Italia. Il Gubbio scalda i motori con il Teramo, che rappresenta l'avversario di turno. Teramo nelle cui file militano Legumino Cancellotti, quell'infantino che è nel mirino del Rosso Blu e che ha vinto 2-0 con il Fano, quindi per l'effetto a differenza reti al Gubbio. Potrebbe bastare anche un pareggio per superare il turno. Chiudiamo con il messaggero. Grifo è l'ora delle cessioni, titola Il Quotidiano Romano. Per l'attacco arriverà un rinforzo solo se qualcuno partirà. Piace Bonazzoni, ma solo nel caso dell'addio di Melchiorri. Ormai fuori dal progetto di Oddo anche le ali e Moscati. E la firma di Gabriele Langelli è attesa strettissimo. Giro Spoleto, successo a Massa Martana e la finanza però controlla la società, mentre la Ducato stende anche il Petrignano. Siamo a Terni, Borgobello, l'ex bomber, dice Cunzi, non mollare, ha avuto la stessa patologia del portiere della Narnese. Mettici tanta grinta, dice, e vincerai. Il campionato che parte con un anticipo a Rieti ci gioca in notturna e poi al circolo Piediluco sbarca il circuito Umbria-Tennis. Siamo al Foligno, un avvio tosto per i falchetti. Il tecnico Armillei vuole partire bene, subito iniezione di fiducia e certezza. Trestina, obiettivo salvezza, arriva il bomber Belli. A Cannara, il tecnico Alessandria dice la spensieratezza sarà l'arma in più. E infine a Bastia Cuppoloni parla di campionato equilibrato. Ed è davvero tutto anche per lo sport, ma prima di salutarci diamo un'occhiata al meteo per questo ponte di Ferragosto. Diamo un'occhiata a questi giorni di festa, partendo da quello di oggi, mercoledì 14 agosto, giornata caratterizzata da cieli per lo più nuvolosi su tutto il territorio, con temperature in calo nei principali centri. Nel corso della giornata i cieli si manterranno nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con locali rovesci localizzati più probabili nell'area penninica. Temperature minime in calo rispetto ai 22-25 gradi dei giorni scorsi scendiamo tra i 16-18, le massime scendono tra i 28-30 gradi, ventilazione sostenuta proverrà dai quadranti nord-orientali. Vediamo la giornata di domani, Ferragosto, giovedì 15 agosto, giornata che si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l'Umbria, con ventilazione nord-orientale, temperature in ulteriore leggero calo sia nei valori minimi tra i 15-18 gradi, giornata soleggiata ma abbastanza fresca nel primo mattino. Infine venerdì 16 agosto prosegue l'ondata più fresca di temperature, sicuramente anche più sopportabile rispetto ai giorni scorsi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l'Umbria, con ventilazione nord-orientale in attenuazione, temperature venerdì in leggero aumento, anche se le minime restano tra i 16-18 gradi, le massime non arriveranno oltre i 28 gradi. È tutto, è tutto per l'appuntamento informativo di oggi, stasera non ci sarà il Tg ma vi proporremo un'edizione speciale di TRG+, alle 20.45, l'informazione torna domani con il TRG7, di nuovo col TRG+, la rassegna stampa invece tornerà soltanto lunedì perché venerdì 16 agosto non ci sono in edicola i quotidiani, quindi noi ci ritroveremo venerdì sera con il nostro Tg. Grazie per l'ascolto, a voi tutti fin d'ora, un buon Ferragosto.